Bentornati a tutti. Oggi è martedì, 27 agosto 2024. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di oggi. Oroscopo Sagittario. La voglia c'è, ma l'energia manca. Quante velleità con il sole invergine rallegrato da Venere, ma senza appoggi planetari che fungano da leva o almeno una scala di corda o una serie di chiodi piantati sulla parete di roccia, da soli non ce la farete a raggiungere gli obiettivi, dovrete solo accontentarvi di ammirarli rifacendovi gli occhi ogni volta che posate lo sguardo o indirizzate la mente verso il punto più alto del vostro cielo, dove vivono le vostre ambizioni. Tutti più o meno consapevolmente hanno uno zenita a cui tendere, il proprio apice, il massimo delle potenzialità e dei sogni, un grande amore e il lavoro ambito da sempre vi chiamano, facendovi grandi cenni con la mano dal tetto dei vostri sogni, ma nessuno, neppure il più grande della storia dell'alpinismo si improvvisa scalatore senza allenamento. Qualcosa, forse prudenza, forse coscienza vi trattiene dal fare un exploit del quale vi potreste pentire. Ma non perdete la buona abitudine di sognare, sono i sogni a creare la realtà. Si apre una fase negativa per l'amore, la colpa è da ricercare in errori commessi prima e durante un rapporto. Sarà difficile recuperare una situazione, abbattimento e solitudine contribuiranno ad allontanarvi dalla persona cara. Arrivo di notizie negative. Singli in pena e in baglia della tristezza e della solitudine. Trascorrerai questa giornata con la testa tra le nuvole. Riceverai una notizia poco piacevole. Pazienza. Guida con prudenza. Guadagni extra da assicurazioni o investimenti. Un regalo per i nati di giovedì. Una persona ti sta pensando. Possibilità di sistemare equivoci in famiglia. Cambiamenti favorevoli. Se siete travolti da un'ondata di pessimismo in amore, abbiate certezza che ben presto ci saranno alcune novità, molte delle quali positive. Solo per le coppie nate da pochissime settimane potrebbero concretizzarsi dei problemi. Una telefonata inaspettata potrebbe cambiare il corso degli eventi. Siate prudenti. Non rivelare agli altri quello che in segreto è stato rivelato a te. Sii più riservato. Prudenza se siete alla guida e cercate di essere concentrati e non distraitevi per nessuna ragione al mondo. Non guidate nelle ore notturne se è possibile. È il momento sbagliato per pensare di investire qualcosa. Siate parsimoniosi e regolatevi anche con le spese. Bene invece l'amore che vi ripagherà di mille piccole sofferenze. Marte vi farà sentire nervosi e agitati, ma Giove, nella tarda serata vi darà qualche bella soddisfazione. In amore non siate eccessivamente gelosi, non ne avete ragione. Siete nati in novembre? Plutone in acquario rende la sensibilità raffinata in fondo e capacità di ascolto delle esigenze che provengono dagli altri. Userete queste ottime qualità in modo disinvolto, grazie al transito di Mercurio nel segno del Leone, luogo dello Zodiaco dove il pianeta forma con il Sagittario un aspetto fortunato. Brutto a fare iniziare la settimana con il Sole e la Luna in conflitto con voi eppure in quadratura tra di loro. La Bianca Signora, infatti, transita in gemelli, segno come il vostro amante dei viaggi, ma superficiale e inaffidabile, quanto invece voi siete generosi e saggi. La realtà vi va stretta, soprattutto quella odierna, fondata sul lavoro, sempre pesante di martedì, sulle relazioni difficili da gestire e accomodare, sul dialogo proposto dal sestile di Plutone che dovrebbe contribuire a chiarire e invece non chiarisce un bel nulla. Amore ed Eros. Braccio di ferro con la vostra dolce Metà ma non solo, anche con il socio o chiunque oggi vi remi contro raccontandovi bugie, cosa che proprio non riuscite a sopportare. Siete in cerca dell'anima gemella? Il cielo ve ne fornisce le opportunità ancora in questa giornata estiva di fine mese. Ma non vi giocate le vostre possibilità commosse poco indovinate. Se siete nati tra il 23 di novembre e il 2 di dicembre, dovrete aprire il vostro cuore alle nuove emozioni e soprattutto darvi da fare concretamente nel mettervi in gioco. Un incontro recente, molto promettente che vi ha lasciato un livello di curiosità alto da soddisfare, andrebbe coltivato con cura. Lavoro e denaro. Appena rientrati sul lavoro non perdete tempo, avete dei doveri ai quali intendete adempiere con la consueta onestà e lo spirito di giustizia che contraddistingue il vostro segno. Varie difficoltà di natura estemporanea, vi rallentano il passo in azienda, in viaggio invece, una volta raggiunta la meta dei vostri sogni, vi tocca fare i conti con la pecunia, tutto interessantissimo, splendido, ma molto più caro del previsto. Uno sfavillante mercurio in leone in ottimo aspetto col vostro segno, vi apre a contatti nuovi che possono introdurvi in una rete di pubblicità e conoscenze proficue per la vostra attività, se svolgete una professione che è in relazione al cinema, alla fotografia, all'immagine, anche alla moda. Questa ipotesi previsionale appare più valida e centrata se festeggiate il vostro compleanno in dicembre. Benessere. Un indolenzimento dovuto a una brutta caduta o un principio di mal di pancia non basteranno a tenervi a casa stasera, spiriti liberi ansiosi di vivere al cento per cento la situazione, a costo di trascinarvi sui gomiti raggiungerete comunque gli amici uniformandovi alle scelte del gruppo. Vi basta stare in compagnia per ritrovare energia e buon umore. Denaro. Al di là di quello che sembra, siete un segno abbastanza materialista e capace di ampliare le vostre sostanze, il vostro denaro. I soldi non fanno la felicità? Ma, secondo il vostro pensiero aiutano ad avvicinarsi e conquistarla. Per lei, amate i vostri vecchietti che tanto vi hanno insegnato e aiutato a farvi strada nella vita, tuttavia non riuscite a condividere il loro modo di vedere e affrontare la realtà. Oggi giorno le generazioni corrono, troppo di vario in tutto, dalla musica alla moda, dai ritmi al cibo da portare in tavola. Per lui, non condividete pienamente le idee del vostro capo, tuttavia per una forma di rispetto nei suoi confronti non gli fate ostruzioni, al grande vecchio in fondo siete affezionati, perciò vi limitate a parare qualche colpo, calciando la palla in un'altra direzione. Semplice sistema per salvare capra e cavoli. Colore delle emozioni, beige rosato. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 7, finanze, 6, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata. Grazie per aver guardato il video. 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 Grazie a tutti.